Il bivacco, soprattutto quello invernale, è tra le pratiche outdoor più belle da sperimentare però nel bivacco invernale ci vuole veramente poco per passare da una bella esperienza a un'esperienza traumatica oggi appunto vediamo quali sono i 5 errori più comuni di un bivacco invernale Il primo errore che vado a segnalarvi ed è il più comune è quello di sbagliare tenda in molti vanno con delle tende tipo queste qua da trekking estivo che come potete vedere è tutta la parte in zanzariera questo fa sì che entri tantissima aria fredda e soprattutto vada a disperdere anche il nostro calore corporeo Passiamo al secondo tipo che va già un pochino meglio ovvero una tenda da alpinismo una tenda d'alpinismo avendo molte meno zone in zanzariera e quindi avendo tutte le pareti coperte evita che entri tutta l'aria fredda però a sua volta non va a trattenere il calore generato dal nostro corpo La tenda che più vi consiglio se dovete fare del bivacco invernale è una tenda con queste due caratteristiche primo una minigonna bassa in modo tale che se ci dovesse essere anche la neve buttando della neve sulla minigonna non entri proprio nessun filo di vento secondo tutta la parte interna fatta in foglio d'alluminio in modo tale che questo trattenga anche il nostro calore corporeo e questo fa sì che rispetto all'esterno avremo un 5-6 gradi in più all'interno della tenda Il secondo errore molto importante che si commette è quello di sbagliare materassino Ricordiamoci che il materassino non ci serve solo per dormire bene, comunque dormire con certa comodità Materassino ci serve per isolarci dal freddo del terreno E soprattutto d'inverno svolge davvero una funzione importantissima Innanzitutto dovremo prendere un materassino abbastanza alto, qua parliamo almeno di 5-6 cm d'altezza Io ve lo consiglio soprattutto come isolante ad aria in modo tale da buttare fuori la nostra aria anche dai nostri polmoni e gonfiarlo Ma soprattutto dovete fare attenzione all'indice RT Ovvero quell'indice che va a indicarci quanto è isolante il materassino Per un materassino invernale si parte da un RT4 e si sale se arriva fino a 6 o 7 Naturalmente poi più saranno fredde le temperature che andremo a trovare più avremo bisogno di un RT alto So bene però cosa state pensando Sì, belli consigli, bello bivacco invernale Ma quanto costa l'attrezzatura invernale? Avete ragione, infatti oggi ci viene in aiuto l'e-commerce Alltricks che è anche sponsor di questo video Alltricks è un sito su cui possiamo andare a comprare tutta l'attrezzatura che vogliamo Hanno un sacco di brand, anche italiani E soprattutto in questo periodo di saldo Alltricks sta facendo degli sconti veramente molto molto alti Infatti vi lascio qua sotto in descrizione un link dove potrete andare a vedere tutti i prodotti che hanno in saldo Ma non solo perché Alltricks è anche un sito attento all'ambiente Infatti all'interno del loro sito hanno tutta una parte di prodotti di seconda mano ricondizionati Dove potrete comprare dei prodotti comunque buoni ma a un prezzo inferiore Ma ora torniamo al video Il terzo aspetto fondamentale è il sacco a pelo Naturalmente dovremo prendere un sacco a pelo molto pesante Però facciamo attenzione ad alcuni dettagli Primo deve essere a mummia Perché un sacco a pelo a mummia ci terrà molto più caldo rispetto a un sacco a pelo rettangolare Secondo aspetto, la taglia Fate attenzione a scegliere la taglia giusta Perché avere un sacco a pelo, vabbè, troppo piccolo Faremo faticato a dormirci dentro Troppo grande vorrebbe dire avere delle zone in cui il nostro corpo non va a scaldarlo Ed avremo delle zone fredde all'interno del sacco a pelo Che fidatevi danno abbastanza fastidio Ma soprattutto è importante avere un sacco a pelo Che sia giusto anche dal punto di vista del calore estremo Questo perché in montagna le temperature variano molto In base al meteo, in base alla nuvolosità E variano anche in base all'umidità Quindi anche in base all'umidità dovremo scegliere un sacco a pelo con più o meno piuma Il quarto consiglio è quello di guardare sempre il meteo È molto importante, legato anche al punto precedente Perché la differenza tra una notte serena e una notte nuvolosa Può essere anche di 5-6 gradi E capite che anche avere un sacco a pelo che non supporta questa differenza è un grande problema Quindi primo, sapere sempre se sarà una notte nuvolosa o una notte serena E soprattutto guardare anche l'umidità Perché avere un'umidità molto alta ci farà avere una percezione della temperatura decisamente inferiore Sicuramente concorderete con me Che sentire 0 gradi con un'alta umidità O sentire 0 gradi molto secchi È veramente differente Quindi l'ultimo consiglio riguarda il cibo Innanzitutto portatevene molto di più Perché ad inverno anche stando fermi per colpa del freddo Si va a consumare il 15-20% in più di kilocalorie Secondo, la giusta attrezzatura Non usate assolutamente le bombole a gas Queste sotto lo zero non funzionano Quindi qua abbiamo due possibilità O accendere un fuoco vivo Ma è l'opzione che più vi sconsiglio Oppure utilizzare un fornello ad alcol Personalmente vi consiglio il fornello ad alcol Più semplice da utilizzare Più semplice da portare in giro E anche se dovesse piovere Possiamo accendere senza tanti problemi Dato ciò ragazzi Abbiamo concluso il video Ho concluso i miei consigli Spero che vi tornino utili Per iniziare a fare il bivacco invernale Perché vi assicuro che è un'esperienza Veramente super bella Dato ciò Io nella speranza sia stato esauramente esaustiva Come al solito Vi saluto e vi ringrazio Ciao